Utilizzeremo la Balken, che è la corda lunga sostanzialmente. La presa sarà una presa semiprona. Tendo a pronare leggermente perché quando si fa il pull down, braccia di destra, questa è una cosa che molti vedono col pull over. Quante volte avete sentito, hai col pull over quando apro i gomiti, sento di più il dorso? Del pull down, molto spesso rispetto alla corda, lavorare con la barra permette di sentire più il dorso. Perché? In realtà io che cosa sto facendo? Sto allargando i gomiti, quindi il line of pull non è ottimale per il gran dorsale. Però quello che faccio è che tolgo dal line of pull i tricipiti. Nel senso che i tricipiti che partecipano al movimento normalmente stanno su questa linea. I qua sono super favoriti capolungo, è bierticolare, e quindi va ad estendere l'omero. Ma se io vado ad aprire, ecco che lui non lavora più bene. E quindi in questo caso quello che rimane è il gran dorsale che può lavorare. Quindi la presa io realmente mi trovo bene a fare una semiprona. La Balken mi permette di cambiare. Provate, corda, piuttosto che barra, sperimentate con quello che trovate meglio, poi utilizzate. Però non c'è un meglio o peggio, diciamo, ci sono motivi per scegliere entrambe.